Ciao a tutti amici di Vallesina TV, siamo ancora all'appuntamento settimanale con le Vallesina Top 5 News, ovvero le 5 notizie più importanti che sono accadute in questa settimana in Vallesina e partiamo dalla prima che voglio segnalarvi, quella che riguarda la decisione da parte del gruppo industriale Pieralisi di ispezionare con il metal detector i propri dipendenti, i propri operai all'interno delle loro ditte, all'uscita appunto dall'orario di lavoro, questo ovviamente perché ci sono stati molti furti, un grosso ammanco di materiale che è appunto fuoriuscito misteriosamente dalle aziende Pieralisi e quindi il titolare ha deciso di perquisire in qualche modo con questo metal detector i propri dipendenti, i propri operai, questo ovviamente non è piaciuto molto né ai sindacati né ad alcuni operai che si sono subito adoperati per chiarire la situazione e per dimostrare che insomma non è un comportamento corretto questo, ora ovviamente Pieralisi si difende dicendo che non c'è niente di illecito ma insomma la vicenda è tutt'altro che conclusa e ovviamente ci saranno dei risvolti in qualche modo per questa situazione. Seconda notizia che vi voglio raccontare è quella della nuova viabilità che il sindaco Bacci e la sua giunta stanno immaginando per Riesi, una vera e propria rivoluzione, cambierà davvero tutto se come spera la giunta Bacci riusciranno a mettere a segno questo tipo di cambiamenti, si parte dal senso unico di cui abbiamo già parlato di Corso Matteotti fino all'inversione di marcia in via Settificio, fino al cambio di destinazione da ZTL a vero e proprio divieto per la salita del Montirozzo, insomma sono tantissime le novità che proveremo anche a raccontarvi in un servizio che vedrete nei prossimi giorni, insomma davvero una rivoluzione che vedremo se riusciranno a mettere in atto e se eventualmente poi porterà a dei cambiamenti significativi. Terza notizia importante della settimana quella dei falsi incidenti, una cricca di 54 persone è stata indagata, sono stati indagati per una truffa, le assicurazioni davvero importanti, c'era di mezzo un avvocato di Taranto che aveva uno studio anche a Iesi che in pratica agevolava questo tipo di illeciti davvero di grosso conto, insomma. Quindi questa truffa molto grande è stata appunto sgominata dall'intervento delle forze della Guardia di Finanza, insomma. Altra notizia, la quarta, quella che voglio raccontarvi riguarda la Copperlat, la Trevalli, dove un dipendente è riuscito a trovare un sistema per rubare una marea di soldi alla propria ditta, si parla davvero di tantissimi soldi. Questo sistema è stato però finalmente scoperto e ora si indaga se ci possano essere delle altre persone che abbiano utilizzato questo tipo di trucco per appropriarsi indebitamente di tutto questo denaro dalla Trevalli. Quinta ed ultima notizia della settimana riguarda finalmente la cattura di due rumeni, ancora una volta della delinquenza che sta sempre più prendendo piede anche in Vallesina. Questi due rumeni sono accusati, anzi ormai è dimostrato che sono stati gli esecutori di una marea di furti nelle ville, specialmente nelle ville, ma insomma in numerose abitazioni in tutta la provincia di Ancona, anche specialmente nella Vallesina, verso Moie, Monzano, Iesi. Insomma davvero una cattura eccellente perché comunque riguarda degli individui molto pericolosi che hanno appunto portato via diverso denaro, diversi preziosi, dalle ville, dalle case di tantissimi cittadini della zona. Quindi con questa quinta ed ultima notizia io vi saluto e vi rimando all'appuntamento della prossima settimana.